Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle ASICS Geltrabuco 10, la decima versione di questa scarpa molto famosa, una delle più famose di casa ASICS, una scarpa che mi ha convinto sotto tanti tanti punti di vista e dove ho trovato un solo punto negativo, che non è neanche così tanto negativo, che vado naturalmente ad escriverve all'interno di questa recensione completa. Iniziamo a parlare di queste ASICS dal loro peso. Nel numero 42, numero classico su cui si va a prendere il peso delle scarpe, pesa 305 grammi. Nel mio classico 47, questa scarpa arriva a pesarne 360, che devo dire la verità, è un peso comunque abbastanza contenuto, considerato che di solito con numeri come il 47 sforiamo tranquillamente anche 400 grammi. Un paio di scarpe che mi sono piaciute, come vi dicevo, inizio ad raccontarvi la suola, una delle parti che più mi hanno soddisfatto. ASICS, con questo gel trabucco, ha utilizzato la sua suola proprietaria, la ASICS Grip, che devo dire è una suola con cui mi sono trovato veramente bene. Ha un grip pazzesco su praticamente quasi tutti i terreni. L'unico terreno dove mi ha lasciato un pelino insoddisfatto sono le rocce bagnate. Per quanto riguarda le rocce bagnate, non ha questo gran grip, ma è proprio trovare il lago nel pagliaio, come si suol dire. Perché per il resto, davvero, sterrati, rocce asciutte, fango, tanto fango, l'ho provata, ho voluto provarla in una giornata in cui ha piovuto davvero tanto e anche lì nessun problema. Con queste scarpe ci ho corso la Malcesine Baldotrail, che mi ha invitato ASICS a farla. E in quel caso abbiamo affrontato dei pendi veramente ripidi, in cui praticamente si camminava di punta, talmente non ripidi. E con queste scarpe non sono scivolato neanche una volta. Avevo persone davanti a me che quando andavano di punta, siccome la sua non li teneva, scivolavano in giù. Io ho niente, davvero un grip spettacolare. Cioè, nulla da dire. È il motivo per il quale non tengono tanto su roccia bagnata, è che la mescola è abbastanza dura. Essendo abbastanza dura, però, gli garantisce una grande durabilità. Se fosse stata più morbida, per riuscire ad aderire anche su roccia bagnata, probabilmente la durabilità sarebbe stata inferiore. Per quanto riguarda poi la protezione nella parte bassa dalle rocce, se dovessimo mettere i piedi su qualche roccia puntita, troviamo tutto un rack plate abbastanza duro, che è fatto tutta in questa parte qua nera che si può vedere, che non ci fa sentire dolore se dovessimo calpestare una roccia puntita. Ma continuiamo, veniamo a parlare dell'intersuola. L'intersuola Duo Max in flight form, beh, anche qua mi ha soddisfatto. È una scarpa sicuramente per gare ultra, ma non ultra lunghe. Intendo dire che ci farei fino a una 100 miglia, non andrei oltre però. È un'intersuola molto molto morbido, tanto cushioning, come si suol dire. Non mi ha convinto tanto dal punto di vista della reattività, perché comunque essendo così morbida va un po' a discapito della reattività. Non che sia, come dire, un divano dove mettiamo dentro i piedi e non ci restituisce per nulla energia. Però quella che ne restituisce è abbastanza poca. Però comunque è un'intersuola che ci dà modo di poter correre a lungo, correre per tante ore. Se non siamo allenati non avremo problemi a livello muscolare, articolare, perché lei va ad assorbire gran parte dell'energia degli urti. Quindi, che dire, anche l'intersuola mi è piaciuto parecchio. Continuando, andiamo a parlare della parte superiore, iniziando dal puntale. Il puntale è veramente molto duro. Noi possiamo letteralmente prendere a calci una roccia e non sentiremo nulla. Questo mi è piaciuto e davvero, soprattutto, visto che poi la parte di rack plate della suola arriva praticamente fino al puntale, davvero, più semplici dentro rocce, non sentiremo assolutamente nulla. La parte che va a cambiare rispetto alle Trabuco 9 è la Tomaia. Qua troviamo una nuova Tomaia che mi è piaciuta molto fine la costruzione, però è anche molto traspirante. La traspirazione è uno dei aspetti che mi è piaciuto di più. Ho corso praticamente in quest'ultimo mese di giugno con temperature veramente elevate e non ho mai avuto sudorazioni particolari all'interno del piede. Ci ho corso, come vi dicevo, anche in una giornata di pioggia in cui le scarpe si sono bagnate tantissimo, per più volte, e nell'arco di pochi minuti si sono sempre andate ad asciugare, quindi la traspirazione ottima. E comunque anche tutta la Tomaia calza molto bene, si riesce a stringere molto bene una calzata a mo' di calzino, come si suol dire, e davvero avvolge molto bene tutto il collo e tutto il nostro piede. Continuando arriviamo a parlare nella parte posteriore di quello che è il tallone. Il tallone è veramente molto strutturato. Come potete vedere c'è tutta questa parte nera attorno, che è molto dura, e garantisce al tallone la possibilità di non avere problemi di svirgolamento, quindi ci evita che il piede possa fare questo tipo di movimento, soprattutto quando corriamo su terreni particolarmente sconnessi, anche se naturalmente il terreno super sconnesso non è il punto dove dà il meglio di sé. Un tallone, come dicevo, molto protettivo, un tallone per persone che hanno anche poca muscolatura, che ci aiuta molto nello stare su strada, che ci aiuta molto nel trovare la stabilità in punti abbastanza difficili. Per quanto riguarda invece linguetta e allacciatura, la linguetta è classica, in questo caso non troviamo una linguetta sottile, ma è bella imbottita, e anche l'allacciatura, i lacci sono un po' vecchio stile, nel senso non sono lacci particolarmente sofisticati, però sono di quei tipi di lacci che potete stringere quanto volete e probabilmente non li spezzerete mai, questo è sempre un aspetto che mi piace un sacco. E comunque tutta la parte di allacciatura, anche qua, funziona molto bene, come vi dicevo, la carpa riesce a calzare come un calzino, quindi anche tutta questa parte ingegnerizzata veramente bene. L'unico aspetto che mi ha fatto storcere il naso, non proprio positivo, è stato la soletta. Ne ho parlato anche con i ragazzi di Asics, e la soletta non mi ha convinto, perché tende a far scivolare in avanti il piede. Io correndoci in discesa, le mie dita andavano sempre a picchiare sulla punta della scarpa, e a lungo andare questo provoca anche abbastanza sia dolore che fastidio. Proprio la soletta è stato l'unico punto che non mi ha convinto, ma la cosa buona è che è la soletta rimovibile, quindi volendo possiamo cambiarla con una soletta con quale ci troviamo meglio. Infine, ultimo aspetto, questa scarpa è particolarmente pensata per persone che hanno problemi di pronazione. Questa scarpa è pensata in modo da andare a trasferire l'energia dalla parte esterna, dove di solito una persona che prona tende ad appoggiare il peso, verso l'interno e quindi riuscire a darci una spinta migliore in caso siamo pronatori. Vi dico la verità, io non ho problemi di pronazione, quindi non vi so dire se questa tipologia di struttura della scarpa sia particolarmente efficace. Io ho un appoggio abbastanza neutro. Ve lo riporto, però fatemi sapere voi se magari avete utilizzato le gel trabuco anche in versioni precedenti che avevano anche loro questo tipo di rinforzo per la pronazione, cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Infine, tiriamo le conclusioni. Vi consiglio queste gel trabuco 10? Assolutamente sì, è una scarpa con quale mi sono trovato davvero molto bene. È una scarpa che dà il meglio di sé sia in salita che in discesa, magari non tanto nelle parti veloci perché, come vi dicevo, non è così tanto reattiva, ma in gare lunghe, con magari anche tanto dislivello, questa scarpa dà il meglio di sé. Senza togliere, naturalmente, che viste anche tutte le buone qualità, questa scarpa può andar bene anche per trekking, anche lunghi. Perciò, ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video, io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo. Ciao!